Capitolo terzo. Geppetto tornato a casa comincia subito a fabbricarsi il burattino e gli mette il nome di Pinocchio. Ebbene, la casa di Geppetto era una casa molto povera. Nella parete di fondo pensate che si vedeva un caminetto con il fuoco acceso, ma il fuoco era dipinto. Accanto al fuoco c'era dipinta una pentola che bolliva allegramente e mandava fuori una nuvola di fumo che pareva fumo. Davvero. Ma insomma, appena entrato in casa, Geppetto comincia a fabbricare sul burattino e gli fa i capelli, gli fa la fronte e poi gli fa gli occhi. E immaginate come rimase quando si accorse che gli occhi lo guardavano fisso. Oh, che acidi legno, perché mi guardate? Disse Geppetto. Nessuno rispose. Beh, allora Geppetto comincia a fargli il naso, ma questo naso inizia a crescere, crescere, cresci, cresci, diventa sempre più lungo e spropositato. Il povero Geppetto si affaticava a scorcirlo, ma niente, e quel naso continuava a crescere. Dopo il naso gli fece la bocca e quella bocca subito cominciò a ridere, a canzonarlo. Smetti di ridere, disse Geppetto impermalito, ma fu come dirlo al muro. E allora la bocca è fatta e Geppetto fece le mani. A Pinocchio, appena fatte le mani, una mano gli prende la parrucca gialla e se la porta via. No, ridammi la parrucca, grida Geppetto. Che razza di un figliolo, non sei ancora finito di fare e già comincia a mancar di rispetto a tuo padre. Male, ragazzo mio, male. E si rasciugò una lacrima. Ve ne restavano da fare le gambe e i piedi. Appena fatte gambe e piedi, Pinocchio incomincia a muoversi per la stranza, aiutato da Geppetto a sgranchirsi un po'. Quando vede che è bello sgranchito, scappa via dalla porta di casa e Geppetto dietro. Prendilo, prendilo, piglialo, piglialo. Tutta la gente del paese guarda questo burattino che corre per le vie e rimane meravigliato ma immobile. Ma per fortuna c'è un carabiniere che vede il burattino correre verso di lui, si piazza lì al centro e lo prende per il naso. Lo riporta a Geppetto perché lo conduca a casa. Però Pinocchio è furbo, comincia subito a lamentarsi. No, babbo, babbo, non mi fare del male, Geppetto, la vedrai, la vedrai quando si torna a casa. A questo punto il carabiniere decide di lasciare libero Pinocchio ma di portare in prigione il povero Geppetto. «Sciagurato figliolo», dice Geppetto, «e pensare che ho penato tanto a farlo un burattino per bene». Ma mi sta il dovere, dovevo pensarci prima. Quello che accadde dopo è una storia da non potersi credere e ve la racconterò in questi altri capitoli». Grazie a tutti.